Oggi facciamo un dolce, dei bellissimi biscotti ed ho anche una piccola sorpresa per voi. Prego, entri l'ospite. Bravissimo, adesso vi elenchiamo subito gli ingredienti e poi con il mio nipotino facciamo questi splendidi. Per realizzare questi biscotti occorrono 350 grammi di farina, 200 grammi di zucchero, un uovo, 150 di burro, 100 grammi di cioccolato e 100 grammi di nocci. Passiamo subito a preparare questi biscotti. Iniziamo a prepararli, quindi prendiamo la farina e la mettiamo sulla spianatoia. Qua le abbiamo sempre un po' a parte, se non veste bastare. Adesso tu mi metti lo zucchero. Aspetta, aspetta, prima spacco l'uovo, mettiamo l'uovo nella spianatoia. iniziamo a romperlo. Poi Marcello mi mette dentro lo zucchero. Vai Marcello, metti lo zucchero. Versano tutto qua dentro. Ce la fai? Ok, perfetto. Iniziamo a impastare. Adesso mettiamo pezzettino per pezzettino il burro. Vai Marcello, aiutami. Il burro deve essere così, a temperatura ambiente, non sciolto, se no non viene. Ecco. E continuiamo a impastare. Vai, tutto qua dentro. Da dentro. Sì, schiacciamo. Schiacciamo. Poi aggiungiamo il cioccolato. Vai Marcello, passa al cioccolato. Persa tutto. E le noci. Tutto qua. Perfetto. Che bravo aiutante che ho. Continuiamo a impastare il tutto. Se dovesse risultare un po' asciutto, aggiungete un pochettino di latte. Adesso abbiamo finito di fare l'impasto, ben sodo come vedete, anche quello di Marcello. Fai la bella pallina. Adesso fai la pallina. E le mettiamo in un frigo a riposare mezz'oretta. Io ho fatto stare la margina. Perfetta. Ok. Ci vediamo dopo. Fai ciao. Ciao. Abbiamo tolto l'impasto dal frigorifero. Così si è raffreddato. Adesso lo stendiamo. Vai Marcello, passa al mattarello. Adesso lo stendiamo. E Marcello, adesso tu gli fai la forma. Facciamo un po' altini. Prendo il bicchiere. Bravo. Passalo. E facciamo così. Guarda, assieme che ti faccio vedere. Uno. Schiaccia. Guarda. Biscottino. Vai. Schiaccia. Due biscotti. Tre biscotti. Visto? E adesso le mettiamo sulla teglia. Vai Marcello, inizia a posizionarli. Uno. Bravissimo piano. Ok. Adesso continuiamo con gli altri. Andiamo a fare i nostri cerchietti. Ecco. Fai vedere Marcello quanti ce ne sono. Guarda. Vedi? Ecco. Tutti i biscottini li stiamo facendo. Domani mattina a colazione ce li mangiamo. Passa la zia. Ecco. E continuiamo così a formare due teglie che bevono fuori con questo impasto. Due teglie di biscotti. Ne verrà fuori una cinquantina anche di più. Ancora? Sì, sì. Ancora. I biscotti sono pronti. E adesso le mettiamo nel forno a cuocere. Ci vediamo tra un quarto d'ora e venti minuti. Ciao ciao. A dopo. A dopo. I biscotti sono pronti. Siamo stati in forno. 160 gradi per 20-25 minuti. E adesso, vero Marcello, ce ne mangiamo noi. Ah! Prima salutiamoli. Ciao! Ciao!